Lo staff della Plaza Iscla augura buone feste e un felice 2018. La generosità dei valtellinesi si riconferma ogni anno di fronte alle stelle di Natale in piazza. L'iniziativa benefica dell'AIL si è rinnovata ancora una volta con successo lo scorso fine settimana, dando ragione ai volontari degli sforzi quotidiani e portando nuove risorse da destinare alla lotta contro le leucemie. La nostra gente soprattutto, ma anche gente che viene da fuori, sono sensibilizzate e capiscono il fine del nostro lavoro. E quindi le stelle vanno con molto successo e quindi ringraziamo veramente tutti quelli che si avvicinano e che oltre a prendere la stella di Natale lasciano anche delle offerte che andranno sicuramente a buon uso. Instancabili come sempre le figure cardine dell'associazione, fra le più attive da sempre in provincia. L'AIL è sempre in pista e ogni anno fa dei progetti che riesce sempre a realizzare. Proprio recentemente abbiamo istituito per 5 medici dell'ospedale di Sondio del reparto di medicina e di ematologia Master di specializzazione presso la Sapienza di Roma che sono tenuti e guidati dal professor Santoro che è un colosso in questo campo. Lo scopo è proprio quello di far sì che i nostri medici siano sempre molto ben aggiornati, approfondiscano le loro conoscenze in modo da riversare poi sul malato e sulla cura degli ammalati le ultime novità, le ultime conquiste in questo campo.